eccoci cari psinellini buongiorno a tutti e a tutte vediamo un po come la luce intanto vedo che c'è un botto di gente ma ciao a tutti buongiorno a tutti allora allora vediamo un po ciao sandro ciao john ciao arianna ciao anna rita ciao katia ciao stefania ciao a tutti ciao che bello vedervi in così tanti nel frattempo io direi di far scattare un po le cose anche di qua intanto voi da dove mi chiamate da dove dove siete in questo momento è che vi state prendendo questo sabato pomeriggio per sentire parlare di un argomento molto bello per me ma sapete che un argomento delicato un argomento delicato da padova john da padova torino da roma da alghiero bello 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 come mi vedete bene mi sentite bene ragazzi perché questo è molto importante perché io da genova ciao salvatore da bassano del grappa bello bello bellissima bassano con il suo ponte con il mezzo mezzo un aperitivo bassanese eccoci da rezzo da rezzo bello bello anche tu da padova zeppe quanti padovani che bello non ci vedo ciao susanna non ci vedo tanto bene quindi se mi vedete fare così ditemelo siamo un bel po di persone oggi ciao siti si vede bene si sente bene ottimo ottimo questi sono ottimi feedback tanto ogni tanto mi vedrete controllare ciao genna dalla sicilia bello da bosa ok dalla fiorentina da bosa ottimo rimarrà registrata ragazzi la live resterà registrata per qualche giorno per qualche giorno dopodiché la toglieremo seguitemi fino in fondo per capire come mai facciamo questa cosa vi invito a seguirci fino in fondo perché oggi parleremo di cose molto importanti anzi tra poco dato che siamo già 175 su youtube una quarantina su instagram vediamo un po l'orario sono le 15 01 e vediamo vi racconto di che cosa parliamo oggi intanto mentre ci raccontate da dove arrivate che è una figata è bellissimo parlo al plurale ragazzi perché non sono da solo in questo momento ho i miei collaboratori che sono sulla chat perché dopo dopo magari durante la la fase finale raccoglieremo delle domande e in queste domande appunto le raccoglieranno e le le smister hanno loro pertanto io direi di in da uk ciao patrizia from uk fantastico fantastico come si sta in questo periodo in uk buongiorno dobbiaco dobbiaco verona da verona da buenos aires argentina ragazzi cioè proprio siamo iper internazionale tra l'altro stiamo raggiungendo quasi le 200 persone quindi insomma facciamo i social mettiamo mi piace condividiamo e quindi direi più o meno 15 02 direi che che possiamo iniziare direi che possiamo iniziare dunque da cagliari da vicenza siamo vicini a vicenza dalla provincia di ancona da milano è molto molto bello molto bello vedere che praticamente abbiamo tutta l'italia non solo un pezzo di mondo da buenos aires collegato in questo momento quindi direi che il tema di oggi è un tema che ha tirato la vostra attenzione il tema di oggi è un tema delicatissimo e allo stesso tempo umanissimo con il quale ognuno di noi ha fatto i conti nella propria vita e dovrà fare i conti nella propria vita perché tutti quanti noi abbiamo avuto e purtroppo avremo delle esperienze negative nella nostra vita e oggi voglio parlarvi proprio di questo però per essere bravo 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 come ho promesso i miei collaboratori dato che io come sapete parlerei anche per sette ore di seguito dei miei argomenti ho deciso di limitare la cosa quindi creando una piccola una piccola scaletta qua da canavese piemonte da santelpidio al mare buongiorno angela buongiorno a tutti meravigliosi benissimo allora io direi di iniziare vedendo un po vedrete che le luci cambieranno perché ho davanti un file bianco e per cui questo file bianco mi illumina un po di più del normale spero che la cosa non sia fastidiosa in caso scrivetelo che cercherò di aggiustare l'illuminazione quindi oggi parleremo appunto di che cosa si intende per esperienze difficili ed esperienze avverse che sono più o meno dei sinonimi dopo vi spiegherò perché mi piace di più il termine avverso rispetto ad esperienze negative o difficili perché tutti possiamo avere delle esperienze avverse come mai questi ricordi queste esperienze costantemente influenzano il nostro presente il nostro modo di agire il nostro modo di pensare perché non pensare a questi ricordi come la maggior parte della gente fa è probabilmente la strategia peggiore che si possa mai utilizzare come lasciare andare questi ricordi e come lasciare andare questi ricordi porti dei benefici incredibili nella nostra vita perché diciamo così tutte le persone sono portate a pensare che per riuscire a far fronte ai ricordi negativi del passato sia necessario soffrire più o meno quanto si è sofferto in quel momento un ottimo esercizio vi mostrerò un ottimo esercizio e due libri due libri essenziali che ci portano all'interno di questa faccenda e poi una tecnica psicologica innovativa per elaborare questi ricordi velocemente e soprattutto come vedremo con il minimo della sofferenza possibile comprovata da un sacco di ricerche scientifiche che oggi vedremo insieme e infine faremo delle domande e delle risposte ok quindi ci occuperemo un po di tutte queste faccende intanto faccio un salto sulla pagina per vedere come si vede l'illuminazione simona anche per il bullismo assolutamente sì sarà anche per il bullismo e non conta che queste esperienze siano accadute una settimana fa o 30 anni fa ok non conta la cosa che conta come vedremo per l'elaborazione di esperienze del genere e che esse siano abbastanza vivide nella nostra mente cioè non dobbiamo andare a scavare a cercarle perché come vedremo in questa trattazione ma se mi seguite lo sapete già se noi scaviamo rischiamo di generare delle esperienze negative un po inventate ricostruite lo sappiamo bene dalla nostra lo sapremo bene dalla nostra dalla nostra diciamo così dalla nostra elisabeth loftus ma anche qui a padova esattamente da dove trasmetto uno dei primi psicologi che ha pensato a queste cose si chiamava cesare musatti e cesare musatti dopo che ha fatto uno studio meticoloso sulla testimonianza oculare i tribunali hanno smesso di accettare le testimonianze al pari di una prova provata cioè il fatto che una persona dica io ho visto che quell'uomo biondo ha attaccato la donna rossa in campo giuridico è valido è più valido ovviamente di che non ci sia una testimonianza ma non è così tanto valido perché sappiamo bene che installare false memorie non è così difficile non è così difficile soprattutto in persone giovani pertanto per questo motivo e per altri motivi che vedremo durante la trattazione di questa piccola lezione è bene che i ricordi siano abbastanza presenti nel senso che ce li ricordiamo non ricordare tutti i dettagli ma ricordiamo bene che non so in seconda media in gita mi sono sentito male ecco non devo ricordare esattamente quella cosa ma ricordare più o meno il contesto di quella cosa ora inizierò proprio una lezione in modo abbastanza frontale e quindi fatemi le domande al termine di questa piccola lezione che prenderà 30 40 minuti massimo e poi faremo una chiacchierata tutti quanti insieme su ciò che abbiamo detto su ciò che abbiamo descritto potrete fare tutte le domande che vorrete vedo che ci sono un sacco di domande interessante da dal brasile un sacco di brasiliani qua ragazzi quindi è ola e direi che possiamo iniziare cosa dite cosa dite iniziamo ok info dal servizio aggiornate la pagina se a voi non è ancora partita ottimo grazie mille francesco che già che ci aiutate ad aiutarvi e quindi questo è già un segno ottimo ottimo allora andiamo a vedere i nostri punti allora che cosa si intende per esperienze difficili o ricordi difficili come abbiamo visto o almeno come ognuno di noi ha avuto esperienza nella propria esistenza ogni volta che abbiamo un'esperienza avversa o difficile essa fa qualcosa essa inibisce altri tipi di comportamento vi faccio un esempio banalissimo vi svegliate al mattino e il vostro bellissimo cellulare si mette a squillare squilla e voi magari siete entusiasti avete un ottimo umore e quindi correte verso il cellulare con entusiasmo con il desiderio di scoprire chi vi sta chiamando allora andate lì prendete il cellulare rispondete ed è un vostro collega che vi rompe le scatole perché avete intabellato male una roba al lavoro magari nel weekend lo mandate a quel paese e gli dite ascolta vai a quel paese chiudete la telefonata tornata alla vostra giornata ovviamente dopo questo evento il vostro umore come sarà sarà uguale a prima probabilmente sarà un po sceso il vostro umore sarà un po inibito immaginate che dieci minuti dopo un quarto d'ora dopo anche un'ora dopo vi arrivi un'altra chiamata come andrete verso il cellulare come andrete verso quell'esperienza ebbene è abbastanza banale dirvi che ci andrete con una ritrosia con una inibizione di fondo con anche un po il timore che sia ancora quel rompiballe del vostro collega che vuole che vuole rompervi le scatole di domenica dunque abbiamo tutti quanti questo tipo di esperienze cioè questo tipo di esperienze sappiamo che il passato ha un effetto sul presente ok è anche se la psicologia degli ultimi tempi come vedremo anche magari tra poco ha iniziato un po abbandonare questa idea perché a un certo punto sembrava che tutto derivasse dagli eventi del passato in realtà è così il passato ha un grosso effetto sul nostro momento presente e la nostra capacità di elaborarlo come vedremo tra poco cioè di metterlo nel posto giusto fa una differenza intensa e vedremo anche degli esperimenti incredibili anche con immagini tratte dalle neuroscienze per capire questo aspetto quindi non significa ovviamente che i nostri problemi derivino tutti quanti dal passato ok ma derivano da come noi gli elaboriamo oggi ok derivano da come noi li rivediamo oggi alla luce della nostra maturità attuale ok quindi perché vi dicevo mi piace di più il termine avverso rispetto a quello negativo anche se ogni tanto dirò esperienze negative un po come lo stesso gioco che facciamo spesso con le emozioni le esperienze della nostra vita non sono mai negative o positive fino a quando come vedremo meglio non sono state digerite perché una volta che tu hai digerito accuratamente un evento negativo del passato questo diventa la maggior parte delle volte una risorsa perché ti ha insegnato qualcosa ti lascia quel segno che ti aiuta a riconoscere quel tipo di pericolo che ti aiuta magari anche a capire quali sono i tuoi limiti e quali sono le tue risorse più importanti di fronte a quell'evento quindi non è non è di per sé un evento negativo pertanto mi piace più il termine avverso dal latino lo leggo qua perché io sono un povero ragioniere adversus messo di fronte è qualcosa che ci hanno messo di fronte è pazzesco un evento del passato notate questa cosa è un evento del passato che ci si mette di fronte ci impedisce di proseguire alla stessa velocità di prima quindi quindi questo qua è stato il primo il primo pezzo la cosa importante da distinguere quello che vedremo oggi è la distinzione tra questo è il disturbo da stress post-traumatico che è un disturbo che può arrivare dopo un evento avverso e che ha tutto un insieme di sintomatologie compresa la depressione ad esempio e compresi altri stati fisiologici che vi assicuro che se voi aveste un ptsd lo sapreste cioè facciamo subito questa distinzione netta non è che adesso le persone iniziano a pensare ma non è che io per caso c'ho un disturbo post-traumatico da stress non elaborato se l'evento è accaduto più di un anno fa e tra virgolette non sei ancora andato a chiedere aiuto è molto probabile che non si tratti di un ptsd che non significa che le persone col ptsd non possano sopravvivere senza andare dallo psicologo e attenzione quello che intendo però è che la maggior parte lo sanno bene perché gli effetti del disturbo da stress post-traumatico sono molto molto evidenti e molto pesanti e quindi dobbiamo distinguere questo aspetto chiamiamolo patologico dall'aspetto naturale della emozione negativa o dell'evento avverso perché altrimenti ogni evento negativo diventa un ptsd e non le cose non stanno così noi possiamo lavorare senza avere un ptsd su esperienze avverse e trarne un vantaggio incredibile ok al di là dell'aspetto patologico se avete un ptsd il mio consiglio è quello di farvi vedere da un mio collega che utilizzi delle tecniche che hanno a che fare col mondo della psicotraumatologia perché noi oggi parleremo un po di questo di trauma di psicotraumatologia e in particolare parleremo di cioè in particolare vi invito a cercare un terapeuta mdr ai moment di sintetizzazione e reprocessing all'interno della mdr italia potete trovare una lista di terapeuti all'interno di questa lista di terapeuti troverete anche me ma non cercatemi perché io non riesco non riesco a fare psicoterapia ma è questo solo per darvi l'idea che parlo di cose che conosco sulle quali sono formato ecco quindi quindi sapete che oggi su internet è facilissimo parlare un po di tutto ok quindi mettiamo diciamo così i puntini sulle allora perché tutti quanti abbiamo dei ricordi difficili chi segue psinel lo sa bene chi segue psinel sa che noi da un po di tempo a questa parte circa c'è una data specifica ma non voglio stare qua a dilungarmi c'è una data specifica secondo la quale a un certo punto capiamo che il nostro cervello la nostra mente essenzialmente una macchina predittiva che continua a fare previsioni sulla realtà che le circondano e sulla base di cosa fa queste previsioni la nostra macchina predittiva costantemente sulla base di che cosa il tuo cervello fa previsioni del fatto che io tra poco non sto laggando ho cercato soltanto di farvi sentire la sensazione della previsione quando qualcuno vi dice rosso di sera o primo secondo è la vostra mente parte in questo modo qui creando una previsione di ciò che accade sulla base di che cosa crei queste previsioni crei queste previsioni sulla base delle esperienze passate e dunque le esperienze passate sono ciò che ci serve le informazioni i dati grezzi che consentono al nostro corpo di muoversi agilmente nello spazio e se ci sono state differenti esperienze avverse nel passato che come abbiamo visto prima tendono a inibire il nostro comportamento ecco che senza rendercene conto potremmo modificare il nostro modo di prevedere gli eventi ok dunque quando una persona che non ha avuto un'esperienza avversa in un bar di periferia entra in un bar di periferia avrà un tipo di previsione quando una persona che viceversa ha avuto un'esperienza avversa avrà invece tutt'altro tipo di previsione mentale ed è per questo che si creano quelle che chiamiamo zavorre cioè dei pesi che ci impediscono di muoverci efficacemente ci muoviamo lo stesso perché il nostro cervello è fighissimo è fantastico tu riesci ad avere tonnellate di zavorre dentro di te sei diventato e siamo diventati tutti quanti fortissimi nella gestione di queste zavorre ma di tanto in tanto alcune di queste zavorre sono davvero pesanti ed è bene alleggerirle un po e oggi vi mostrerò dei metodi e dei modi per riuscire a farlo quindi le nostre zavorre quando è che si vengono a formare le zavorre più importanti beh se ci pensi bene le zavorre più importanti avvengono nei momenti di passaggio nel momento di passaggio ad esempio tra una fase evolutiva e un'altra da l'infanzia all'adolescenza o la pubertà quindi magari tra le elementari e le scuole medie tra le scuole medie e le scuole superiori no sarebbe curioso se voi magari mi scriveste anche in quale fase della vita perché solitamente sono momenti di passaggio quando si esce fuori di casa per andare all'università quando ci si sposa quando ci si trasferisce da un posto all'altro tra l'altro il trasloco è considerato uno degli eventi avversi più tipici nella letteratura psicotraumatologica perché fare un trasloco è uno stress importante tutti gli eventi stressanti possono avere effetti del genere quindi effetti diciamo così inibenti nei confronti del nostro comportamento del nostro agire della nostra mente che inizia ad essere come ingombrata da tutti questi tentativi di evitare quella sofferenza quella piccola sofferenza quella piccola sofferenza dentro di noi ok fate fare un controllino molto bene intanto saluto tutte le persone che stanno arrivando vediamo scattiamo un attimo di qua e un po tutte le persone stanno arrivando ok siete 300 persone ragazzi fantastico spero che si veda si veda bene anche quando passo da una parte dall'altra intanto vedo che francesco ci sta dando una mano grazie mille ragazzi siete meravigliosi che iniziate da questo modo nel questo momento allora elisabeth loftus chi è elisabeth loftus è una ricercatrice americana di cui sul nostro sito parliamo dal giorno 1 del nostro sito perché la nostra loftus ha fatto degli esperimenti incredibili ha dimostrato dagli anni 70 ad oggi tra l'altro ha fatto un ted bellissimo dagli anni 70 ad oggi ha dimostrato apertamente che le nostre memorie quando noi tendiamo a recuperarle in realtà le modifichiamo e possiamo modificarle a tal punto da creare veri e propri ricordi fasulli anzi tutte le volte che tu ricordi qualcosa che è accaduto anche solo una settimana fa in realtà tu non vai a pescare nell'archivio della tua memoria un insieme di fotografie di audio di mp3 chiamiamoci diciamo così esperienze sensoriali ma in realtà vai a ripescare come dei file che ti aiutano a recuperare quei pezzi chi è un esperto di musica conoscerà i file midi i file midi funzionano in questo modo qua i file midi non contiene della musica dentro ma sono delle istruzioni che dicono guarda che qua dentro se ci metti degli strumenti suoneranno con questa ritmica con questo tempo e in questa modalità qua ecco diciamo che la nostra memoria assomiglia un po ai file midi e come vedremo tra poco attraverso una neuroimmagine questo file midi però è ancora più intelligente è in cloud è sparso nel cervello cioè non c'è un punto nel cervello dove c'è quel tipo di memoria capite non c'è un punto preciso dove c'è la memoria di quel ricordo ma ci sono un insieme di file midi che dicono in quale punto si deve generare questa questa memoria quindi ciò che rende la memoria pesante del passato non è la memoria in si è non è il file midi in sé ma è l'emotività che è rimasta incastrata dentro al file midi e che gli impedisce di elaborare correttamente quell'informazione quindi di per sé il file midi è perfetto l'esperienza del passato quando io lavoro con traumi molto pesanti del passato la cosa che la gente mi dice solitamente è ma io non voglio dimenticare il mio marito non voglio dimmi non si preoccupi lei non dimenticherà nessuno il file midi resta lei toglierà da quell'esperienza l'aspetto emotivo l'aspetto emotivo invalidante e inibente che blocca questa elaborazione la naturale elaborazione perché ciò che abbiamo capito è che tu sei perfettamente capace di elaborare le esperienze del passato solo che in certi momenti per vari ed eventuali potresti incastrarti in uno di questi processi e stiamo attenti perché l'incastro di questi processi potrebbe non dipendere direttamente dal né dalla biologia né dalla psicologia né dalla società ma da tutti questi concetti insieme in un aspetto bio psico sociale cioè in altre parole non è che a un certo punto ha iniziato a avere paura non so dai cani perché quel cane magari ti ha morso ma magari è perché qualcuno ti ha raccontato di essere stato morso da un cane sappiate che esistono degli eventi negativi del passato che noi abbiamo in modo vicario e spesso sono più forti addirittura degli eventi veri e propri quando qualcuno ce lo racconta guardare un film con un evento negativo e restare particolarmente colpiti è un esempio di evento avverso vicario ecco quindi abbiamo un modo di assorbire i nostri i nostri pensieri e altri no com'è che questi ricordi restano imbloccati com'è che questi ricordi bloccati nella nostra mente tendano a influenzare costantemente il nostro presente il nostro modo di agire di pensare di sentire appunto oggi sappiamo che la nostra personalità come noi come tu ti definisci no pensaci un attimo come ti definisci tanto pensaci com'è che ti definisci immagina di finire su un altro pianeta e qualcuno ti ti chieda chi sei beh mi chiamo gennaro romagnoli sono un essere umano visto che mi sembra di essere su un altro pianeta sono un essere umano ho 44 anni nella vita faccio una professione che si dice psicologo sulla terra o una moglie o due gatti cosa sono queste queste sono informazioni narrazioni incasellate dentro la nostra testa cioè un insieme di raccol di racconti che noi ci facciamo insiemi di narrazioni e se ci pensiamo le narrazioni hanno tutte dei punti di svolta e tali punti di svolta rappresentano proprio eventi forti della vita eventi avversi oppure propizi della nostra vita ok facciamo un esempio di come questi eventi possono modificare la nostra mente in modo quasi divertente elisabeth loftus quella stessa scienziata del ricordo delle false memorie diversi anni fa fece una sperimentazione con dei bambini anche un po anche un po diciamo così poco etica dal punto di vista della ricerca dove praticamente convinse questi ragazzini a non mangiare più la cioccolata in pratica questi ragazzini hanno golosi di cioccolata la loftus li faceva andare nel suo laboratorio e ponendoli delle domande con un gioco a un certo punto li diceva a questi bambini ti ricordi quando eri bambino che siamo andati insieme a quella festa di quel tuo amico e hai mangiato così tanta cioccolata che poi sei stato malissimo tutta la notte e non sei potuto andare in gita con gli amici ora vi sembrerà assurdo ma la maggior parte dei bambini iniziarono a credere a questa bugia ok e a costruire una narrazione nella loro testa sul fatto che avessero mangiato troppa cioccolata e fossero stati male addirittura non fossero andati in gita e alcuni di essi smisero di mangiare la cioccolata cioè quello che voglio dirvi è che un semplice racconto come questo può modificare completamente l'atteggiamento il comportamento magari anche per tutta la vita ora vi invito a non fare questa cosa con i vostri figli ok invito caldamente a non fare questa cosa con i vostri figli però l'idea di fondo più interessante è che una semplice narrazione può cambiare il nostro modo di comportarci e il nostro modo di agire e il cambiare il nostro modo di comportarci e di agire può cambiare il nostro modo può cambiare la nostra personalità anche molto profondamente anche molto profondamente ora cosa succede che quando avviene un evento del genere è come se si cristallizzasse un po nella nostra mente cosa significa che si cristallizza nella nostra mente perché come se no immagina che in questo momento sia tu abbia rotto il cellulare ok un cellulare hai rotto il tuo computer rompere il computer è un'esperienza avversa della vita e però hai questo profondo hai questo appuntamento bellissimo con noi e dici voglio seguire tutta la live di genna perché so che alla fine mi racconterà delle cose molto interessante mi darà dei consigli utili quindi adesso non devo pensare al fatto che ho spaccato il laptop un minuto fa giusto che cosa dobbiamo fare per riuscire a non pensare dal fatto di aver rotto il nostro computer o di aver perso il nostro animale domestico ok una cosa importante lo so che non è la stessa cosa ma ho scelto un esempio piccolo quello del laptop per non parlare di cose un po più pesanti ecco cosa devi fare per riuscire a stare qui guardarmi ascoltarmi con attenzione senza pensare al fatto che hai rotto il laptop devi creare dentro la tua mente una specie di scatoletta all'interno della quale inserire il laptop o meglio l'esperienza del laptop devi isolare questa esperienza per far sì appunto che la tua mente sia aperta a ciò che stai ascoltando e immagina che ci sia questa esperienza negativa qua in mezzo qua ci sono io che parlo qua c'è la tua comprensione mettiamo dentro di te c'è questa cosa invece di fare una linea retta tra virgolette per comprendere queste cose invece di fare una linea retta deve fare un giro è come se questa esperienza negativa che ti è accaduta con la sua scatola dissociativa dentro di te una dissociazione mentale rubasse ti vampirizzasse energia ed ecco perché riuscire a lavorare con gli eventi avversi del passato che riconosciamo con specifiche tecniche può aiutarci tra virgolette a eliminare abbassare questa energia dentro di noi e riattivare quel normale stato di come potremmo dire di gestione dell'informazione dell'informazione che si era diciamo così incastrata da qualche parte ok quindi un po' questo il nostro scopo ovviamente ogni volta che tu ripensi ad una di queste memorie essa emerge tra virgolette emerge anche senza che tu anche se tu non te ne accorgi no tra virgolette quindi noi abbiamo fatto tante di queste esperienze facciamo una lista mi sono dimenticato di farmi una lista di queste cose non abbiamo le bocciature gli incidenti d'auto i lutti eccetera lo sapete le sapete già il sentirsi sottomessi in un qualche modo insomma noi tendiamo a creare degli evitamenti per evitare di farci soffermare o inibire da quel pensiero o perché ci fa soffrire troppo ok o perché pensare al fatto di aver rotto il laptop potrebbe farti soffrire troppo o al contrario perché semplicemente ti sembra un ingombro pensarci no vabbè ci penserò poi o che lo risolverò poi e quindi tendiamo a creare come delle cisti interiori all'interno delle quali ingabbiamo le esperienze negative del passato tanto fatemi dare un'occhiata al alla chat perché molto affascinante benissimo vedo che siamo ancora tantissimo ciao a tutti ancora molto bello molto bello grazie tornate ma molto bello siamo tantissimi ragazzi siamo praticamente 400 persone collegate da tutto il mondo perché poi ho visto brasile e argentina insomma quindi sono molto 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 contento lasciatemi bere un po di acqua ditemi intanto se continuate a vedermi e a sentirmi bene una piccola pausa da questa ondata di informazioni che bello che bello grandi grandi ok allora vediamo un po ok ok allora torniamo da questa parte intanto vedo qua ok quindi abbiamo appena visto che perché non pensare a questi ricordi sia la cosa peggiore che si possa fare grazie mille ragazzi anche qui su instagram perché non pensare a queste cose sia la cosa peggiore tuttavia non è che uno può stare di tutto il giorno a pensare a queste cose no siamo d'accordo ok quindi com'è che come possiamo lasciare andare questi ricordi in modo che o meglio come far sì che i lasciare andare questi ricordi portino dei benefici incredibili in parte l'abbiamo visto in altre parole nel momento in cui tu impari a far riattivare questo ricordo ok in modo intenzionale ecco che lui tende a smontarsi cosa intendo per in modo intenzionale i ricordi si riattivano continuamente c'è una dinamica all'interno della nostra mente che tra virgolette ci guida tra virgolette ci ci guida alla risoluzione naturale alla digestione naturale di queste faccende tuttavia non sempre questo ricordi questa cosa avviene alla giusta velocità o avviene soprattutto in modo completo e infatti può capitare che un odore un profumo un suono una sensazione legata a quell'evento ce lo faccia ritornare non dico tutto quanto è completamente ma quasi completamente no e se voi se alcuni di voi ricordano la l'esperienza dell'ovoide di assaggioli si ricorderanno molto bene questo questo aspetto vediamo un po se riesco intanto a trovarlo perché mi sono dimenticato di preparare questa immagine ragazzi quello dell'ovoide di assaggioli ma l'altro giorno la nostra bravissima alice me l'ha preparata qua da qualche parte eccolo qua ok vediamo un po se si vede vediamo un po intanto provo a vederlo anche da qua perché ci tengo che si veda scusatemi qua su instagram ma ci tengo che si veda qui un attimo su su youtube si vede male ma ok come vedete qua c'è un come vedete qua c'è un disegno c'è un cerchio in questo cerchio qua facciamo finta che sia questo il cerchio aspetta chiudiamo facciamo finta che sia il mio il mio il mio iphone il cerchio no c'è un cerchio qua ecco mettiamo così così ci assomiglia anche ad un cerchio ok questo mettiamo che sia un cerchio e qua sotto abbiamo le esperienze negative un po come in inside out avete presente dove le esperienze negative erano disegnate come nere che finiscono giù cioè sono negative a berse finiscono giù quando le le risolviamo diventano risorse e vanno su verso l'alto diventano pallini bianchi verso l'alto lo so si capisce poco perché non abbiamo la rappresentazione visiva ma è molto facile immaginate un sacchetto pieno di biglie le biglie nere sono quelle che rappresentano gli eventi avversi della vita ma non resteranno nere per sempre perché alla luce della maturità alla luce delle tue esperienze alla luce della vita che svolgi e delle convinzioni che hai queste tenderanno a cambiare colore e ecco che quell'esperienza avversa caduta in quel momento lì potrebbe aiutarti in un altro momento facciamo un esempio fai il mio lavoro perdi un genitore come è accaduto a me l'anno scorso se avete ascoltato la trilogia sulla morte sapete che ho perso mia mamma l'anno scorso quando mio paziente oggi perde un genitore io sono molto più capace di affrontare quel dolore non è che sono diventato meno capace giusto perché ho perso mia mamma anzi più capace perché ci sono passato e quindi è diventata per me l'esperienza luttuosa di mia madre è diventata in certi casi non sempre ragazzi in certi casi diventa una risorsa era chiaro questo passaggio per questo uno dei passaggi più complessi di cui dovevo parlarti oggi ok quindi com'è che si fa come fai quando tu cosa fai quando quando ti capita una roba del genere piccola anche no è quello che fai di solito quello che fai e cercare di evitare quella situazione lì però dentro di te sai come si fa vi faccio un esempio quando ero ragazzino da bambino un mio zio per convincermi a tuffarmi dal molo di casa mia molo di alassio due metri e mezzo più o meno di altezza ha usato la tecnica diretta quella di impatto mi ha preso e mi ha lanciato in acqua questa cosa qua mi ha spaventato molto e quindi per un po di anni fino ai dieci anni io sul molo di alassio non volevo metterci piede però tutti i miei compagni di scuola facevano i tuffi dal molo e io dicevo io voglio fare i tuffi dal molo come loro così verso fine maggio quando facevamo un po più caldo ma c'era ancora poca gente sul molo io andavo lì di nascosto senza dire niente ai miei amici ai miei compagni delle scuole medie e gradino dopo gradino mi tuffavo dall'alto cioè giorno dopo giorno o meglio ora dopo ora prima mi tuffavo dal terzo gradino poi mi tuffavo dal quarto gradino poi dal quinto gradino fino ad arrivare alla soletta così la chiamavamo finché mi sono riuscito a lanciarmi dall'ultimo gradino del molo cosa ho fatto mi sono esposto gradualmente all'evento traumatico o all'evento avverso questo è essenzialmente la tecnica principe che ti viene anche spontanea cioè non c'è bisogno dello psico che te lo dico allo psicologo lo sapevamo già prima della psicologia che era necessario esporsi ma dovete sapere che nella storia degli eventi avversi c'è sempre stata molta ritrosia perché per secoli abbiamo visto gli eventi avversi o meglio gli effetti degli eventi avversi in modo iper negativo ci racconta alessandro barbero che molto probabilmente conoscerai ci racconta che tra la prima la seconda guerra mondiale tutti gli eserciti noi per primi italiani fucilavamo le persone che tornavano dal fronte con lo shock da guerra perché era una vergogna che un soldato del regno esercito italico potesse tornare diciamo così con effetti negativi legati ad un evento diciamo così un evento negativo avverso legato a quella cosa lì dunque oggi abbiamo un altro punto di vista sappiamo che tutti quanti possiamo entrare in quella roba lì e sappiamo che l'esposizione è uno degli effetti positivi è una delle tecniche positive più semplici che possiamo utilizzare e lo sai spontaneamente cioè se caschi dal motorino sai bene che se ci risali sopra o fai un incidente in macchina ritornare al volante il prima possibile è una delle cose più intelligenti che tu possa fare riesporti a quell'evento ok ora com'è che funzionano però la nostra mente com'è che funziona funziona che in realtà noi quando abbiamo un evento avverso in realtà come dicevo prima non è che siamo colpiti solo da in quell'area della vita ma siamo colpiti come in una specie di catena di reti associative perché il nostro cervello funziona come una rete gigante di associazioni se in questo momento mi metto a parlare di acqua dell'importanza dell'acqua che scorre di fiumi di acqua che scorrono del fatto che l'acqua è una sostanza importante e non solo perché nel deserto e ha molta molta sete è probabile che in questo momento tu abbia addirittura un po più sete anzi è probabile che ti sia venuta anche un po di salivazione anzi beviamo un po di acqua perché questi concetti conducono ad accendersi ad albero a tutti gli altri concetti che riguardano l'acqua facciamo un altro esempio al contrario immagina di aver avuto un evento avverso avversivo chiamiamolo come volete un trauma piccolo o però importante cascando in acqua come è successo a me da bambino e di non aver fatto la mia esposizione cioè di non essere tornato su quel molo a tuffarti più e più volte ecco sei magari tranquillo con i tuoi amici e un tuo amico dice sai cosa faccio questo weekend vado a pesca e tu inizi a sentire delle sensazioni negative e magari non ti va di andare con lui non perché in un qualche modo hai paura della pesca ma perché senza farlo apposta ti si riattiva un concetto che è vicino semanticamente al concetto di pesca e dov'è che peschi in acqua ok capite come è delicato tutto questa faccenda quindi quando noi subiamo un evento avverso della vita questo evento va a generalizzarsi tra virgolette va a generalizzarsi intorno diciamo così nella nostra mente tra poco vi faccio vedere anche delle foto che dimostrano questo aspetto della generalizzazione quindi perché tutti siamo convinti che per riuscire ad elaborare dei ricordi difficili o per riuscire a digerirli sia necessario soffrire perché siamo tutti quanti figli di aristotele e di freud aristotele parla della sua catarsi dell'effetto catartico del teatro quindi del fatto che quando io guardo un evento teatrale e empatizzo con i personaggi o simpatizzo con loro questa cosa diciamo così mi fa riattivare mi fa riattivare in me stesso quei sentimenti in modo specchio e questo me li fa anche diciamo così esprimere meglio l'aspetto catartico ecco è stata proprio una delle prime idee di freud l'idea che fosse necessario ripassare attraverso le forche caudine dell'evento traumatico anzi per freud tutto dipende dal trauma un trauma originario eccetera eccetera con un sacco un sacco di elocubrazioni molto interessante in realtà poi durante gli anni sessanta il trauma resta come punto cardine perché ripeto nessuno può dire non è vero sai che dopo che hai ricevuto una botta in testa poi hai paura di tornare lì non per la botta in testa ma perché in realtà no è ovvio che è così però tuttavia moltissimi miei colleghi intorno agli anni 50 iniziano ad allontanarsi da questa visione dalla visione traumatocentrica chiamiamola così e iniziare a parlare appunto invece di sistemi di comunicazione di sistemi disfunzionali eccetera eccetera creando anche delle alternative molto efficaci che lavorano sul momento presente e poi oggi abbiamo fatto un'unione di queste cose abbiamo capito che ovviamente l'aspetto degli eventi negativi del passato ha un senso ma non è che sia centrica questa cosa e abbiamo capito anche che per riuscire a superare degli eventi negativi del passato anche delle paure molto intense spesso non è necessario soffrire così tanto quindi voglio parlarti del primo articolo scientifico che voglio citare oggi che ha un titolo bellissimo prima di dirti il titolo fammi dare un'occhiata qui ok vedo che siamo ancora a 335 fantastico allora il titolo dell'articolo è fantastico ed è di paul sigel e si chiama paul sigel sapete ci sono un sacco di sigel campo della scienza questo chiama paul e l'articolo scientifico lo trovate tranquillamente andando su google si chiama less is more che significa meno e più ok meno e più e ora vi racconto come mai è così importante cosa ha fatto paul sigel ha preso un campione di soggetti aracnofobici cioè persone che avevano sviluppato la paura per i ragni in particolare che avessero sviluppato tale paura anche in risposta ad un evento negativo ok non sempre però alcuni di essi l'avevano sviluppato in risposta di un evento negativo aspettate un attimo che controllo una cosa scusate ok paul sigel che cosa fa si diverte si diverte tra virgolette a prendere queste persone con il trauma e si inventa un'esposizione tutti quanti sappiamo che l'effetto espositivo funziona per superare e far ripartire l'elaborazione dell'evento negativo com'è che si fa di solito magari prima ti faccio vedere una parola mettiamo sono racconofobici quindi non paura dei ragni la parola ragno quella parola rete di ragno poi ti faccio vedere un pupazzo divertente a forma di ragno poi la foto di un ragno vero poi un ragno vero dentro un terrario e poi magari se proprio sono super ardito ti faccio toccare il ragno ok questa è un'isposizione graduale no parto da la parola ragno poi vado via via avanti verso verso il vero proprio oggetto ragno sigel fa un'altra cosa prende una foto di un ragno e fa vedere dei filmati a delle persone ad un gruppo mostra questo filmato e mentre stanno parlando all'improvviso appare il ragno per circa 3 4 5 secondi di modo che la persona il soggetto se ne accorga ok se ne accorga e ovviamente se viene ripetuto questo esercizio avviene un effetto di rilascio dell'evento avverso in altre parole esporci anche con delle fotografie a un effetto positivo in altre parole queste persone dopo avevano meno paura dei ragni detto l'effetto comportamentale era questo avere meno paura dei ragni poi lo stesso sigel inizia a far diventare l'esposizione dell'immagine sempre più veloce sempre più veloce e si accorge che più veloce diventa e più ha un effetto potente di riattivazione dell'elaborazione dell'evento avverso fino a farlo apparire in modo subliminale cioè meno di 25 millisecondi al di sotto della soglia della percezione e la cosa incredibile è che facendolo in modo subliminale ecco che sigel scopre che l'effetto è più potente e dura di più dura addirittura dai sei mesi a un anno attenzione non significa che adesso se guardate dissoppiato l'immagine di un oggetto poi elaborerete eventi avversi del passato serve l'intenzionalità nel fare questo ok serve sempre il settare la mente per dire adesso faccio questa cosa qui ok altrimenti saremo delle banderuole al vento costantemente ma è molto interessante ciò che ci mostra sigel ci mostra che è possibile elaborare aspetti anche molto potenti della nostra personalità come un'aracnofobia di decennale nel caso dei soggetti di paul sigel con una tecnica rapidissima e soprattutto in dolore perché questi neanche sanno di aver visto un ragno ora vediamo alcuni alcune tecniche per riuscire a fare questa esposizione per riuscire a fare questa nostra esposizione naturalmente quindi alcuni piccoli esercizi ok come vi dicevo prima la tecnica madre per tutte queste cose è il nostro è il nostro è il nostro mdr o meglio la tecnica madre chiamiamola così la tecnica regina per questa roba qui è l'mdr scusate che non riesco a aprire eccoci qua allora per prima cosa voglio farvi vedere alcune cose che succedono nel nostro cervello quando c'è il trauma prima e dopo averlo elaborato ok sia con quella tecnica lì poi dopo magari le rivedremo un attimo queste immagini vedremo un attimo qua queste sono immagini che potete trovare anche su una pagina che tra poco vi indicheremo devo fare così per riuscire a farlo ok come vedete l'immagine che vedete con più rosso è l'immagine con l'evento traumatico questo è tratto da un articolo scientifico e invece con una risonanza magnetica funzionale e invece l'immagine dall'altra parte e dopo che l'evento traumatico è stato elaborato cioè quanto si attiva il cervello come vedete si attiva decisamente di meno e come se tra virgolette il vostro cervello fosse quando avete l'evento avverso fosse tutto preso per cercare di evitare di gestire quell'evento lì ok e invece dopo quando l'avete elaborato c'è questo effetto magico di pulizia chiamiamola così e quindi è è molto 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 interessante quindi da dove si traggono queste cose qua partiamo dal primo punto partiamo dal dal primo punto appunto dalla tecnica delle mdr che ovviamente non possiamo fare da soli ma facciamo con un facilitatore ma è uno psicoterapeuta formato come ho fatto io come tanti colleghi tuttavia la franzine shapiro nel tempo ha fatto uscire un libro bellissimo che si chiama lasciare il passato nel passato questo libro qua di mdr vi spiega come fare le mdr da soli cioè quindi come applicare alcune di queste tecniche completamente da soli ok questa tecnica qua è molto molto potente facciamo un passo indietro è però facciamo un passo indietro se volete elaborare degli eventi avversi che vi sono accaduti e che voi riconoscete sapete di avere potete passare parla per la esposizione graduale come abbiamo visto prima oppure queste sono le tecniche più semplici l'esposizione graduale oppure la nostra meravigliosa scrittura espressiva chi lo sa chi segue psine lo sa bene la puntata probabilmente lo sapete a memoria da iscrivetemi nei commenti qual è il numero della puntata della della nostra scrittura espressiva per vedere se ci sono degli psinellini degli psinellini forti qua intanto ok la 217 carmela la prima bravissima bravissima ok 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 la 217 bravissima carmela vedo un po di spam e tanto tanto tutti che scrivono 217 bravissimi esattamente grandi grandi psinellini esatto nella puntata 217 vi spiego che cos'è la scrittura espressiva quando la prima volta che ho iniziato a parlare di scrittura espressiva credo intorno al 2013 la gente mi guardava e mi scriveva anche ma che banalità questa cosa io tengo un diario da quando sono bambino ma tenere un diario la scrittura espressiva non sono esattamente la stessa cosa e adesso ti spiego come si fa come si fa la scrittura espressiva la scrittura espressiva è frutto di quasi 40 anni di ricerche da parte di james pennebacher che ha anche scritto un libretto che c'è pure in italiano che si chiama se non sbaglio scrittura espressiva forse ce l'ho qua da qualche parte rossastro un libretto luccico sberlucicoso ma bello interessante con tutti gli studi di pennebacher e in pratica consiste nel prendere i nostri eventi avversi e scriverci sopra dei temi com'è che gli scriviamo questi temi tanto mi fa ridere che sono persone che spammano bravi spammatori che chissà quante persone portate sul vostro canale mentre spammate vabbè scusatemi ecco consiste nel prendere l'evento avverso del passato metterlo lì ripensarci iniziare a scriverci sopra ma in un modo molto particolare le istruzioni sono semplici bisogna poter avere il tempo di scrivere per almeno 15 minuti di seguito senza mai fermarsi in modo in modo senza pensiere senza nel modo più spontaneo possibile senza punteggiatura vomitare su carta scrivendo per un quarto d'ora senza cercare di censurarsi tra virgolette quindi scrivere tutto ciò che ci viene in mente anche se ci sembra stupido anche se ci sembra banalotto come cosa scrivere a manetta una volta che abbiamo scritto per un quarto d'ora poi possiamo scrivere anche per sette ore di seguito ma l'importante è che sia un minimo di 15 minuti dopo aver fatto questa cosa quando ci sembra di aver esaurito le energie la forza eccetera possiamo passare dall'altra parte possiamo fermarci lasciare che la giornata trascorra tranquillamente e poi il giorno dopo ripetere l'esercizio per quattro giorni di seguito ritornando sempre sullo stesso evento quindi non so quando sono stato bocciato in prima superiore metto lì e scrivo tutte le cose che mi vengono in mente la rabbia la tristezza le emozioni ricordatevi che il problema degli eventi avversi è che non è il file midi ok non è il file midi ma in realtà è l'emotività legata a quel file midi che come se quel file midi fosse corrotto in un punto che gli dice ogni volta che questi strumenti suonano deve suonare anche un po di tristezza anche un po di rabbia anche un po di sofferenza quindi è questo tipo di emotività che noi andiamo piano piano a lavorare attraverso la scrittura espressiva quindi poi abbiamo visto l'esposizione graduale molto molto semplice no molto semplice è molto semplice l'esposizione graduale e poi come vi dicevo lasciare il passato nel passato che un ottimo libro e poi tra poco vi parlerò anche della della sommato della diciamo del di peter levine ecco per non parlare della sua tecnica perché a me non piace così tanto ma ci serve per spiegare la tecnica che tra poco vedremo insieme ora quali sono gli svantaggi di questa modalità beh intanto che ci vuole un sacco di tempo si può fare ovviamente si può fare vi invito a farlo ma diciamo che come vi dicevo prima è chiaro che per scrivere ci soffro anche cioè quando scrivo ci soffro anche e questa sofferenza non sempre va nella direzione è corretta inoltre c'è un problema della nostra mente la nostra mente tende a raccontarsela costantemente noi tendiamo a raccontarcelo costantemente vi ricordate la la famosa la famoso esempio freudiano di come lo stesso freud arriva a pensare che tutta l'attività psichica negativa potrebbe essere un trauma e non solo un trauma ma una specie di suggestione post ipnotica no freud è alla salp3 da charcot in francia parigi e vede il suo maestro jean martin charcot che ipnotizza un signore gli dice questa notte a mezzanotte durante la festa tu entrerai nella sala da ballo e aprirai un ombrello hai capito a mezzanotte quando scoccherà la mezzanotte tu entrerai nella stanza e aprirai l'ombrello freud giovane neurologo appena sente sta cosa dice ma io lo seguo e infatti questo signore a mezzanotte arriva e apre l'ombrello freud lo segue dice mi scusi signore ma perché ha aperto l'ombrello e questo tizio gli dice beh perché piove e freud dice no guardi che non sta piovendo e il signore risponde è perché mi andava così da lì freud capisce che noi tendiamo a raccontarcela e oggi sappiamo che così ci sono dei disturbi neurologici dovuti a ictus a botte prese in testa eccetera che magari ci impediscono di essere consapevoli del fatto di non riuscire a più usare una parte del corpo quando il medico chiede al paziente come mai non usa più la mano sinistra il paziente si inventa delle storie noi siamo bravissimi a raccontarci delle storie e a volte se raccontiamo troppe storie ci allontaniamo dal nucleo della dissociazione dell'evento avverso e non lo elaboriamo correttamente e quindi oggi sono qui per presentarti oltre a queste tecniche che puoi usare da solo all'esercizio che puoi trovare qui al nostro puntata 217 sul sulla sulla scrittura espressiva o addirittura leggerti un po di materiale di peter levine per quanto sia un po' particolare ok per quanto sia un po' particolare sono qui per presentarvi una tecnica psicologica innovativa per elaborare questi ricordi in modo molto rapido e soprattutto ragazzi estremamente indolore è una tecnica che deriva proprio dalle esperienze delle persone che hanno inventato le mdr e che l'hanno portato avanti in questi anni che hanno cercato in tutti i modi di trovare un modo per far sì che l'assessment delle mdr ci sarebbe la raccolta iniziale delle informazioni non fosse così dura perché sai immagina ti far raccontare da una persona un evento molto difficile ecco che mentre te lo racconta la persona piange si dispera e non è utile per riuscire a fare una bella diciamo raccolta dati tranquilla nel fare questi esperimenti si accorgono delle volte che facendo solo l'assessment le persone elaborano il trauma elaborano l'evento avverso ma come cavolo hanno fatto allora questo stesso autore che era anche formato con la titolazione di levine e della chibinski che un'altra psicologa scusate vi dico questi nomi per così se volete andare a vedere no perché magari mi sto inventando delle cose questo personaggio inizia a elaborare una nuova pratica dell'elaborazione del dell'elaborazione rapida degli eventi avversi del passato che ha dei vantaggi incredibili adesso ve li leggo perché i dovuti scrivere sono tanti ma intanto è scientifica come dicevo le immagini che avete visto prima appartengono a quella tecnica ok poi si soffre il meno possibile davvero poco e veloce e di una velocità che quando la farete stenterete a crederci direte no ascolta infatti come vedrete dovremmo passare un po di tempo a creare la forma mentis adatta perché quando una persona magari per anni è stata torturata da un pensiero e lo risolve magari in 20 minuti non ci crede e il fatto che non ci creda non diciamo così che non va a suo vantaggio non è una tecnica propriamente psicologica ragazzi più una tecnica neurologica chi l'ha inventata dice che non funziona perché tu devi ripensare a quell'evento perché ci rientri dentro rientri nel contenuto ma perché fai delle tecniche specifiche su specifiche attivazioni fisiologiche e in accordo la cosa che vedremo è in accordo la tecnica che vedremo all'interno di questo di questo percorso è completamente in accordo con tutto ciò che diciamo su psine con la nostra meditazione con la nostra presenza con la macchina pensante con diciamo così che tu sia buddista che tu sia induista che tu sia questa tecnica diciamo che si integra con qualsiasi tipo di percorso e quindi sono qui ragazzi a parlarvi di questo percorso molto importante che abbiamo costruito nel giro di mesi e che abbiamo sperimentato prima sulle persone e alcuni di voi erano presenti a queste sperimentazioni sia dal vivo che online non solo quindi ci sono migliaia e migliaia di persone che l'hanno utilizzata nel mondo appunto in giro per il mondo ma anche noi l'abbiamo sperimentata perché io volevo accertarmi che funzionasse che funzionasse anche in autonomia e volevo accertarmi che potesse realmente diventare uno strumento di realizzazione personale per questo abbiamo aperto l'opportunità di scrivervi a questo corso potete trovare il link che probabilmente in questo momento apparirà nella chat potete scrivervi a questo corso solo 50 persone perché nel nell'arco del tempo poi raccoglieremo tutti i feedback tutte le domande tutte le diciamo così tutte le vostre opinioni delle 50 persone e faremo una specie di coaching immediato dove voi mi mandate le vostre domande e io vi rimando indietro un insieme di video che rispondono sia individualmente sia in modo generico a quella domanda in modo da cesellare sempre di più sempre di più la metodica di modo che possiate finalmente liberarvi delle vostre zavore quindi quindi andate qui sotto link lo trovate nei commenti il link vi è arrivato anche per email se siete iscritti e potete trovarla potete trovare il corso in questo momento nell'area corsi di psilen e in quell'area corsi troverete anche e potete trovare anche il l'immagini le immagini e le citazioni che abbiamo fatto in questo in questo momento quindi adesso passiamo alle domande mentre io mi bevo un po di acqua ok passiamo alle domande e vediamo un po qua da questa parte come può aiutare a casa un genitore che dopo l'ictus e depressione questo è un altro è un altro discorso scusate ma leggerò solo le domande che hanno a che fare con ciò che abbiamo appena detto ok aspetta possiamo determinare cos'è zavorra sì che l'ho determinato prima nel senso se definire intendi l'ho definito poco prima è un evento che non è stato digerito a sufficienza un evento avverso del passato che non è stato digerito a sufficienza che per qualche motivo la sua elaborazione del suo modo informazionale si dice del suo modo informativo non è stato la sua elaborazione diventata disfunzionale invece che funzionale ripeto quando un evento viene elaborato funzionalmente diventa una risorsa anche se ci ha fatto male quando un evento non viene elaborato adeguatamente anche se ci ha fatto bene può diventare una zavorra non so se l'insegnamento di quel maestro che ci ha urlato invece di dircelo dolcemente poteva essere una risorsa invece diventa una zavorra se ricordo francesca scrive se il ricordo negativo che rievoco mi provoca un'emozione come posso trasformare questa emozione brutta in un'emozione bella francesca una bellissima domanda non devi trasformare l'emozione e l'emozione brutta in un'emozione bella devi imparare la metodica di come lasciare andare l'emozione ok quindi cosa succede se utilizzando la nostra scrittura espressiva ad esempio mentre tu scrivi noterai che magari emerge la rabbia emerge e se ne va le emozioni hanno sempre questo stato diciamo così non se avete il nostro emotional freedom avete seguito le nostre direte sapete che fa in questo modo seguono una gaussiana che arrivano e poi se ne vanno via e poi se ne vanno via quindi non devi cercare di trasformare quella rabbia in grinta ma semplicemente lasciare andare la rabbia quando la lasci andare molto di molto molto probabilmente poi si trasforma in grinta ma per la scrittura espressiva scrive alessandro se dopo dieci minuti non ho più niente da scrivere significa beh intanto puoi riscrivere 10 minuti e poco significa che probabilmente non non sei riuscito o non sei riuscito a entrare davvero in contatto con quell'esperienza oppure se non c'è niente da scrivere vuol dire che hai già hai già fatto il tuo lavoro appunto il dialogo interno scrive giovanni quanto influisce sulla zavorra tanto perché il dialogo interiore può mantenere la zavorra ok ma attenzione perché il percorso che vi porteremo non ha niente a che fare con l'utilizzo di dialogo interiore però sì il dialogo interiore un dialogo interiore negativo o nel tentativo di risolvere quella sensazione negativa emotivamente ecco che può tra virgolette bloccarci può 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 influire parecchio quindi vi ricordo che non so se c'è già stato il link qua troverete il link per potervi scrivere adesso solo 50 posti ragazzi perché non voglio che mi inondiate di domande ok il corso si chiama let it go mi sono dimenticato di dire quanto sono pessimo let it go lascialo andare let it go lo so nome inglese ma è più bello di lasciare andare no quanto è più bello let it go rispetto vediamo un po qua su su instagram mi scrivono invece di un evento ben preciso e definito come negli esempi fatti ottima domanda questa può essere una condizione situazione a definire la zavorra sì assolutamente la cosa interessante del percorso che vi stiamo proponendo è che voi non dovete conoscere esattamente i dettagli di quella situazione ma basta che voi abbiate dei continui richiami con quella situazione cioè se vi capita molto spesso che questa cosa vi capita nei bar probabilmente è qualcosa di legato al bar ma tranquilli perché non è un metodo analitico non dovete scavare dentro di voi per cercare di capire che cosa vi ha condotti in quella direzione ma vi basterà applicare il metodo dalla a alla z senza analizzare e vedrete che proprio basato sul fatto di non analizzare e vi sorprenderà tantissimo per la sua enorme efficacia l'altro giorno quando abbiamo finito di fare il percorso il mio socio principale marco in questo momento ci sta ascoltando mi ha detto genna l'ho fatto e sono ancora sbalordito perché ho detto ragazzi fatelo no era i miei ragazzi e mi ha detto provatelo e tutti mi hanno detto ragazzi siamo sbalorditi della potenza di questo esercizio nel mio studio i pazienti ci restano male perché scusa ma com'è cavolo è possibile ok ciao ciro grande ciro il nostro grande ciro il nostro vicolante che di solito è sempre presente nelle dirette allora genna se l'evento lo hai elaborato così tanto da sentirti sollevato nel senso che ci ripensi continuamente dicendo ti è stato meglio così perché ritorno ugualmente questa è un'ottima domanda ciro questa è un'ottima perché lì dentro c'è ancora qualcosa da imparare se ci ritorni continuamente è questo proprio un caso ideale per il nostro percorso se ci ritorni continuamente significa che qualche pezzettino è ancora da elaborare potrei stare qua ora a spiegarvi perché funziona questo ma vi do un riferimento bibliografico per i più curiosi ma soprattutto per i colleghi che magari ci stanno guardando pierre janet pierre janet che è stato il maestro di carly jung ok aveva un'idea proprio fatta in questo modo dell'evento negativo c'è il fatto che l'evento negativo diciamo così parcellizzasse la mente in tanti pezzettini e che le aggregasse altri pezzettini della mente quindi è davvero interessante la domanda diceva che ma sono siete tantissimi e non ok stefani spesso mi succede soprattutto in una discussione di rievocare questo ricordo negativo provo le stesse emozioni e con la stessa intensità come gestire sul momento ecco questa è un'ottima domanda di stefani non puoi gestirlo sul momento o meglio potresti gestirlo sul momento potrei dirti 100 tecniche per arginarlo ma non lo stai risolvendo ecco perché se segui il cosa abbiamo detto in questa live che potrete rivederla non so per quanto tempo potrete rivederla ma potrete andare sulla puntata 217 del podcast oppure approfittare della nostra offerta di questo momento per i 50 posti ecco che ti assicuro che questo questo ritorno diverrà sempre sempre meno scusate mi sono perso come o meglio quando arriverà sarai capace di gestirlo molto molto meglio questo è un esempio tipico quello che dice stefani molto cioè grazie per il tuo per la tua domanda perché è l'esempio tipico di come funziona al massimo questa tecnica quindi tu la fai a casa su temi specifici ok e poi va in giro a fare la tua vita serenamente paola scrive certi eventi passati mi provocano rabbia anche perché potrebbero ripetersi e quindi paura e rabbia voglia di proteggersi in potenza beh scritta così ci sono tutti gli elementi per un ptsd paola messa così però lo sai come ho detto prima il ptsd è una cosa davvero potente ok diciamo che che è normale che alcuni eventi possano fare così però se tu hai paura del loro ripetersi non so se è l'evento o è l'ansia che è costruito intorno all'evento cioè quindi è un'ansia diciamo così prevenzionale di continuare a temere tu temi che si verifichi l'evento l'evento non si verifica e inizia a stare male perché temi che si verifichi cioè l'attesa invece di essere l'attesa stessa il piacere l'attesa stessa l'ansia ok non so se sono riuscito a spiegarmi massimo ciao massimo io ricordo che una mattina mia madre mi ha svegliato per andare a visitare una scuola di odontologia e io ho risposto che preferivo dormire ora ancora oggi ripenso a quel giorno con molta rabbia ecco questo è un esempio tipico di un evento conosciuto da parte di massimo ci puoi lavorare massimo attraverso gli strumenti che abbiamo visto o iscrivendoti al nostro percorso il sito dal quale hai preso l'immagine del cervello prima e dopo la lavorazione del cervello non sono siti luigi sono due articoli scientifici sulle mdr quindi non sono siti sono paper scientifici quindi se proprio vuoi un sito google scholar dove andarli a pescare ciao cristian sto proseguendo un percorso di psicoterapia privato su questo posso confrontarmi privatamente con te e con il mio terapeuta mi sono iscritto certamente cristiano ovviamente diciamo che se voi state già seguendo un percorso che abbia ecco lo dico per cristian ma anche per tutti che abbia la teoria dell mdr la base ok cioè che la persona utilizzi strumenti come le mdr strumenti moderni di terza generazione della psicoterapia cognitivo comportamentale ecco che potete tranquillamente integrare le cose parlate col vostro terapeuta ok ciao a tutti ciao ma il malessere scrive kevin scusate che leggo poco ma il malessere si attiva quando penso ho contatti con la mia famiglia una zavorra che vi indipende dipende 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 potrebbe esserlo come potrebbe non esserlo dipende dipende da dagli e dagli e dagli dagli dall'esperienza che hai per fammela leggere bene la rileggo bene a me il malessere si attiva quando penso e ho contatti con la mia famiglia sì allora una delle cose che scoprirete all'interno del percorso che abbiamo inserito degli strumenti che vi aiutano a individuare gli eventi diciamo così più diciamo quei pulsanti caldi non è che dovete ripulire tutta la vostra vita degli eventi avversi perché ne abbiamo avuti tantissimi ognuno di noi è un fascio di eventi della vita ok però ce ne sono alcuni che sono più rappresentativi all'interno del percorso vediamo come individuarli e come riuscire a comprenderli senza analizzarli vi ricordo questa roba qua è molto importante non c'è alcun tipo di analisi cioè non c'è il tentativo di capire non c'è nessuna comprensione questo non piace perché la gente innamorata della psicologia vuole io voglio capire no io voglio aiutarvi a lasciare andare le zavorre è diverso vuoi capire o vuoi lasciare andare le zavorre perché sono due cose diverse perché capire non ti aiuta a lasciare andare le zavorre te lo posso assicurare la maggior parte della gente vuole questo fammi capire no prima lasciamo andare la zavorra poi dopo quando avrai lasciato andare la zavorra avrai tutto il tempo per capire quindi prima lasciamo andare la parte emotiva dal file midi e poi dopo possiamo ragionarci sopra puoi fare tutte le analisi che vuoi anche analisi assurde puoi anche pensare che è stato un tuo trisavoro che ti ha portato con il trauma transgenerazionale a a sentirti in quel modo però dopo dopo che ci hai lavorato sopra ok ma se dice giusevo 13 anni aspetta perché mi sto perdendo voi siete tantissimi se si pensa di avere ursula scrive se si pensa di avere non una ma più zavorre cosa bisogna fare beh si può lavorare su molte più zavorre come vi ho detto in una singola sessione di 10 15 minuti di let it go si possono lavorare si può lavorare su due o tre zavorre e poi le zavorre sono tutte appiccicate tra di loro le zavorre come si fossero tutte appiccicate non so mettiamo che quando ero bambino una bambina mi abbia detto a che capelli brutti che hai zavorra 1 poi magari quando avevo 22 anni una ragazza mi ha detto ma i troppi pochi capelli per me zavorra 2 sempre legata ai capelli no e poi adesso uno mi scrive sei un brutto pelato schifoso zavorra 3 però sono zavorre che iniziano con una zavorra iniziale attenzione perché qua non vorrei darvi l'idea che si debba andare a scavare a cercare la zavorra principale si può fare anche così ci saranno delle tecniche che fanno questa cosa qua all'interno del percorso ma non è sempre così è delle volte basta disarcionare la zavorra giusta per avere immediato effetto di rilascio che consente alla mente di diventare più libera e vi consente anche di essere più bravi nella ricerca e nella risoluzione delle vostre zavorre che poi si risolveranno da sole spontaneamente questa è la cosa fighissima del percorso che vi ripeto per creare questo percorso la lezione che troverete che è ci abbiamo messo un sacco di tempo ho dovuto formarmi io prima in queste metodologie abbiamo dovuto capire come crearla abbiamo creato dei gruppi all'interno dei quali abbiamo utilizzato queste tecniche ok le ho utilizzate io su me stesso anche nella trilogia ne parlo quando vi dico che ho usato una tecnica molto potente quando è mancata mia mamma io faccio riferimento proprio questa tecnica ok cioè quindi è morta un anno fa mia mamma di una cosa terrificante ok questo solo per dirvi solo per dirvi che io per primo ho utilizzato questa tecnica ve ne ho anche parlato senza dirvi quale fosse e ecco l'aspetto interessante è che poi abbiamo fatto anche dei gruppi anche qui ragazzi alcuni di voi sono venuti a padova nel mio studio a fare questa tecnica e infatti a queste persone a queste persone regaleremo il percorso perché giustamente si sono offerte volontarie e hanno anche pagato tra l'altro per venire nel mio studio per per sperimentare questa cosa e poi anche mandarci dei feedback sul loro sul funzionamento insomma non vi stiamo proponendo una roba inventata su due piedi io non ho inventato niente stiamo proponendo cose che arrivano dalla ricerca quindi vi invito a dare un'occhiata cliccate sul link qua sotto vediamo un po vediamo un po vediamo un po pare che 12 persone hanno già preso il corso let it go mi scrivono ora ci sono 38 posti disponibili ragazzi 12 persone hanno già preso il posto quindi vuol dire che mancano sapete contare meglio di me 38 posti mi piacerebbe che chi di voi è davvero interessato potesse andare a dare un'occhiata a questa cosa chi di voi gli è suonato qualcosa ha detto probabilmente io ho bisogno di questo percorso andata a dargli un'occhiata perché potrebbe essere il corso del 2022 anche del 2023 e anche del 2024 ok perché questa metodica resta con voi per tutta la vita e non è una cosa che serve solo per i ricordi del passato perché domani o dopo domani o tra un anno potreste avere bisogno di questa metodica e ce l'avete lì ok allora mdr per i disturbi alimentari che cosa ne pensi penso che possa funzionare se ovviamente il disturbo alimentare ha anche a che fare con quello è un pezzo del pezzo del percorso potrebbe essere fatto anche con le mdr bello questo che il ventura scrive e se la zavorra nel tempo poi si fosse rivelata solo un'allucinazione collettiva che ti ha condizionato la scelta i più importanti della vita funziona anche con questa roba qua perché i nostri le nostre zavorre sono sempre racconti facciamo un esempio di quello che tu dici ventura perché è molto bello quello che scrivi c'è molto bello per me da 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 studioso perdona perdonami perché so che potrebbe essere un evento invece devastante nella vita di un individuo quindi facciamo un esempio ammettiamo che io mi illuda che tutte che esistano i rettiliani ok siamo tutti d'accordo che non esiste ok perlomeno una teoria molto fantasiosa ok ammettiamo che sia così e in base a questo leggo un libro a otto anni su sta roba dei rettiliani e i tutta la mia vita è condizionata da questo penso che tutte le persone cattive nella mia vita siano rettiliane che esattamente quello che dice ventura cioè una allucinazione collettiva però mi influenza davvero e il fatto di aver letto quel libro mi traumatizza quando avevo quando ho 15 anni ok perché magari penso di aver visto un rettiliano perché mia morosa mi molla perché gli parlo dei rettiliani cosa molto più probabile cosa molto più probabile ecco che ecco lavorare su quell'evento lì anche se è completamente inventato anche se è completamente un'allucinazione funziona pensate che appunto la maggior parte delle esperienze avverse sono esperienze vicarie perché perché tua mamma o tuo papà quando sei bambino e ti deve dire che non devi toccare il fuoco deve fare così non toccare il fuoco che ti bruci tu non lo sai che il fuoco brucia è un'esperienza vicaria vuol dire non hai bisogno di toccare quel fuoco per spaventarti ma se lui o lei te l'hanno detto con quella forza erano davvero tanto spaventate e spaventati anche tu ti spaventi di brutto e anche tu rivivi quello e questa è una storia che ti hanno raccontato che però influenza realmente il tuo comportamento proprio come un'allucinazione collettiva descritta d'avventura Rebecca scrive ciao Rebecca si può lasciare andare la zavorra ma non voler avere più avere a che fare con quell'ambiente situazione che l'ha causata o ci rende inefficace il lavoro per lasciare andare la zavorra allora se fai l'esposizione lo rende inefficace se fai il nostro esercizio invece puoi farlo tranquillamente se fai il nostro esercizio vai da un terapeuta puoi farlo tranquillamente cioè puoi lavorare senza mai più ritornare lì lo so che uno dice ma questo è un evitamento dipende dipende come lo vedi quell'evitamento quello che posso assicurarti è che se ci lavorerai adeguatamente ad esempio con il nostro let it go tu non avrai più diciamo così il timore di frequentare quel posto però avrai sempre la scelta di dire diciamo che tornerà la scelta la scelta adesso dirai ci vado non ci vado lo scelgo non sulla base della quantità di sofferenza che provi in questo momento ma sul desiderio di andarci o non andarci ok vediamo un po jennifer president grazie giovanni domanda poco inerente mi dai la possibilità di seguirti su instagram per contenuti incredibili va bene giovanni ti do la possibilità di cosa mi sa che giovanni mi ha scritto un sacco di volte sapete che io intanto vi banno ragazzi vi banno io ho una politica del banno ve la dico in un secondo la politica del banno potrebbe essere un'esperienza avversa della vita acquistate il prodotto se siete stati bannati scherzo no è fatta così se fate qualcosa di illegale c'è tutto scritto nella policy di psine o semplicemente rompete le scatole perché pretendete che io risponda ad una domanda stupida o commentate in modo stupido tipo no non sono d'accordo che non va bene per sempre contro la policy di psine essi siamo così è un club sine non club e per tenere un club fatto bene servono delle regole ferre io cosa faccio vi limito l'account se poi ne fate un'altra di blocco in automatico e quindi non sarà carinissimo da dire però anche questo allora vediamo un po certamente si frisce un evento del passato che vedo che il mio team sta rispondendo in scientologi usano una tecnica simili per ripercorrere e rilasciare la carica emozionale lo so leone però la nostra la nostra è una tecnica scientificamente provata che non ha niente a che vedere con quelle cose clear e cose del genere loro usano purtroppo la scientologi adesso lo dico qui io ho letto i libri di ron abbard ok perché ero io sono un uomo curioso molto anzi curiosissimo mi è capitato dovete sapere nella mia casa dello studente mitologica il mio diciamo che il portinaio lasciava nell'anticamera del mio bagno tanti libri tra questi un sacco di libri di di scientologi allora iniziato a leggerli e scientologi è una specie di psicoanalisi ridimensionata dove si pensa che tutti i nostri problemi derivino dagli engram da eventi emozionali elaborati incastrati nella mente psicoanalisi cioè non ci voleva ron abbard per dirlo già detto freud e anche jean e prima insomma ok e che esistono delle tecniche solo quelle tecniche se le sono inventate loro la tecnica che vi dico io se le sono inventati equip di psicotraumatologi famosi in tutto il mondo non è la stessa cosa scusate non lo metto proprio sullo stesso piano poi magari all'interno di quelle tecniche ci sarà della roba buona e nessuno dice nessuno avete mi avete bloccato il commento in alto forse volevo togliere o quell'opzione serve per mettere in evidenza un messaggio non lo so luca non lo so il corso sarà disponibile in futuro o finiti posti adieu alessandro per ora finiti posti adieu e poi lo riapriremo più avanti sicuramente però per ora e dato che queste 50 persone a queste 50 persone io voglio rispondere personalmente e io sono uno e sono uno e anche con poco tempo ho bisogno di che siate pochi quindi una cinquantina va già bene perché io voglio fare dei video di risposta ragazzi quindi dei video non sarà una vera e propria consulenza però è quasi come avere una consulenza ok ok ottimo funziona anche se la zavora del passato la si sta combattendo nel presente con stati a volte di paura e dubbio questa è un'ottima domanda paolo funziona un po meno se è un evento ricorrente del momento attuale cioè se è tipo il tuo capo che ti vessa funziona un po meno se il tuo capo ancora lì se l'esperienza col tuo capo è passata allora funziona al cento per cento ma se il tuo capo ce l'hai tutti i giorni allora potrebbe fare delle difficoltà aiuta ma non è risolutiva come nel caso di un evento che è già trascorso ok quindi la tua è un'ottima è un'ottima domanda allora mi sa che i posti termineranno prima che lo riveda tranquilla o kevin nessun problema magari lo riapriremo tra tre quattro cinque mesi non lo so ma lo riapriremo sicuramente però per ora c'è bisogno che io mi concentri su queste cinquanta persone voglio creare degli ottimi contenuti per loro che poi magari potranno essere utili anche nei corsi successivi no voi sapete che questa è la nostra sperimentazione vi dico solo una cosa è molto probabile che il prezzo lieviti perché noi abbiamo questa specie di piccola politica che la politica è questa tu mi dai la tua fiducia presto e dopo ne verrai ripagato vi faccio un esempio das c'è gente che das l'ha pagato 47 euro e adesso quanto costa 250 non so 190 perché perché quando noi apriamo un progetto le prime persone che arrivano un po come se fossero degli investitori che credono scommettono in quel progetto e noi facciamo sì che che per sempre avranno quel progetto così quindi quando io aggiorno i prodotti come das come emotional freedom come mma le persone che hanno pagato 47 euro non è che spendono hanno quel prodotto aggiornato perché come se scommetteste sulla mia professionalità e su di me ecco quindi per questo ursula che differenza c'è tra ptsd e zavorra come torna indietro poi nella quando è finita questa live e troverai questa distinzione l'ho spiegata il ptsd è qualcosa di molto più complesso il ptsd ha un insieme di sintomatologie che posso assicurare se tu l'avessi te ne accorgeresti ragazzi non è vero che potreste avere un ptsd nascosto ok se voi avete un disturbo da stress post-traumatico vi posso assicurare che lo sapreste certo magari non tutti sono così consapevoli certo non tutti sono risolti al cento per cento cioè sono devastanti al cento per cento ma vi assicuro che se aveste un vero disturbo da stress post-traumatico sareste già davanti come minimo davanti al vostro medico di base dire c'è qualcosa che non va non dormo non riesco a mangiare non riesco c'è un altro a qualità di un'altra qualità altra intensità ok fatemi guardare ancora qualcosa ragazzi perché direi che stiamo raggiungendo stiamo arrivando al termine anzi fatemi dare un'occhiata fatemi dare un'occhiata al ok mi dicono che ci sono ancora pochi posti disponibili io direi che tra poco tra poco di di chiudere così mi stanno scrivendo eh sull'altra ok ok Sara ok purtroppo devo andare grazie Ludovica per essere stata qua ok quindi praticamente si parla di scrittura espressiva si Sara si si e non solo Sara anche di questi due libri qua ok tu dici quali sono che cosa mi porto via da questa da questa live ti porti via questo la descrizione della scrittura espressiva è una lezione sul ptsd che cioè scusate è una lezione sulle zavorre che non trovi da un'altra parte insomma spero che questa cosa qua sia 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 di valore ok Sara eh Jessica sto leggendo eh la mente ferita di Giorgio Nardone conosci il testo sì lo conosco è un altro punto di vista sì certo lo conosco funziona anche per la paura che una zavorra diventi zavorra vita assolutamente sì Giovanni assolutamente sì sempre se questa zavorra è terminata Giovanni come abbiamo visto come abbiamo visto comunque Giovanni se vuoi essere riaccettato scrivimi perché sei stato bannato secondo te scrivimi perché sei stato bloccato secondo te anche se dici non lo so dammi un'ipotesi ok se ti sforzi in questo ti ti riaccetto nel gruppo le proprie zavorre Giuseppe è molto interessante le proprie zavorre notate questa domanda di Giuseppe secondo me è molto interessante per noi eh e mi scrive Giuseppe scusate ok ottimo quindi anche il mio team mi dice che tra poco chiudiamo mancano ok quindi sedici persone quindi trentaquattro posti mancano ragazzi ancora trentaquattro posti e andate date un'occhiata al link su let it go per approfittare di di questo primo lancio di questo percorso davvero innovativo eh ve lo posso assicurare nessuno c'è in Italia ecco allora questa la domanda di Giovanni di Giuseppe è l'ultima io direi che eh a Serena dice che lei vorrebbe iscriversi al gruppo al sito ma non sta accettando la sua password perché lo recupera password non gli funziona Serena scrivi a info chiocciola psinel.com vedrai che ti aiuteranno ragazzi aiutate Serena a risolvere il suo problema ora penso che se mi sblocchi mi farò un tatuaggio con la data di oggi solo per questo ti sblocco Giovanni sei simpatico dai e invece di prendertela la metti sorridere quindi già già ti voglio bene Giovanni ora ti registro poi ti sblocco allora questa la domanda di Giuseppe è bellissima scusatemi mi sono un po' perso ma dice le proprie zavorre possono dipendere dalla poca autostima è molto più probabile Giuseppe il contrario che la tua bassa autostima dipenda dalle troppe zavorre è il contrario non è che tu non hai autostima perché hai ricevuto troppi eventi avversi del passato ma tu hai ricevuto tanti eventi avversi del passato e per questo hai poca autostima è proprio il contrario dovete sapere che questa storia degli eventi avversi del passato sono talmente importanti nel mio lavoro e nel lavoro di tutti i clinici del mondo che esiste un test che si chiama ACE Adverse Childhood Experiences lo trovate online scrivete ACE adverse childhood scritto come Robin Hood Experiences già scrivere questo lo trovate è un questionario con dieci domande e in queste dieci domande se voi rispondete sì a tutte e dieci le domande la probabilità di avere un autostima bassa o dei problemi ecco mettiamo così dei problemi oggi è molto alta è come se misurasse la fragilità in base alle botte che hai preso nella vita ACE si chiama quindi è una cosa e quindi è una cosa molto potente Federico dice acquistato subito grazie mille grazie a tutti voi Federica Gabriele a tutti quanti i posti stanno andando a ruba continuano a scrivermi che i posti stanno sperando quindi io ringrazio tutti quanti voi mettete mi piace condividete questa live che durerà qualche giorno poi magari la rimetteremo online è perché non voglio che la gente si iscriva al corso e continua a scrivermi e non riesco a scrivermi al corso quindi appena raggiungeremo le 50 persone toglieremo lasceremo un po la live di modo che voi possiate riguardarvela per qualche giorno e poi la toglieremo poi la rimetteremo quando ci sarà la possibilità di riscriversi ok quindi ragazzi siete stati meravigliosi siamo stati 320 tutto il tempo qua sul canale di youtube che è un anno nostro canale di youtube siamo stati più di 70 80 persone anche su instagram adesso ancora 34 posti vedo grazie davvero a tutti e buona giornata a tutti date un'occhiata adesso all'etitgo e buon weekend terminiamo qua e terminiamo anche qua ciao ragazzi